Si chiama Hope Speranza ed è un bellissimo maschietto di 3 kg, segni particolari premura di venire al mondo, tanto da nascere in un'ambulanza. Una donna nigeriana, ospite del cara di Mineo a Catania, ha partorito su un'ambulanza della Croce Rossa italiana durante il trasporto in ospedale. È successo domenica intorno alle 6.30. La donna, che aveva chiesto aiuto dopo essersi accorta della rottura delle acque, è stata immediatamente soccorsa dai volontari della Croce Rossa, con il prezioso aiuto di un medico catanese, Sebastiano Disma, che però è un anestesista e che per l'evento si è improvvisato ostetrico e ginecologo. La donna ha dato alla luce il suo primo figlio, che gode di ottima salute. Allora ero di turno al cara di Mineo, avevo finito la notte, erano le 7, il mio turno finiva alle 8 e mi viene questa ragazza di origine nigeriana che arriva lì, praticamente si toglie i pantaloni, si butta per terra, disperata dal dolore. Capisco che era gravida, 8 mesi, quindi escludevo comunque un travaglio in corso. Faccio l'ispezione ginecologica, mi pare di sentire la testa e dico a questo punto agli ambulanzieri corriamo in codice rosso verso l'ospedale. Pensavo di avere almeno un'ora di tempo, ho detto che il policlinico è a 45 minuti di distanza, cattagione a 20-25, andiamo, ho detto direttamente al policlinico, almeno lì conosco tutti, so come gestire la situazione. Dopo neanche 3-4 minuti che partiamo, la signora vedo che il travaglio è accelerato, vedo che si iniziano a intravedere i capelli, a questo punto ho messo i guanti, senza fermare l'ambulanza, quindi continuando a correre in codice rosso, ho mandato il sangue freddo, ho messo i guanti, ho fatto una manovra, prendendo la mano, ho afferrato collo e testa del bambino, ho girato, come avevo sempre visto fare, in quanto ne si esista, ma mai fatto praticamente, e sono riuscito a tirar fuori il bambino. Questo bel maschetto che si chiama Hope Speranza? Sì, si chiama Hope probabilmente perché il marito della signora che è arrivata qui a fine giugno ad Augusto è sbarcato, è morto purtroppo durante la traversata, e quindi probabilmente la speranza della donna è di un futuro migliore, di qualcuno che sia qui con lei, visto che altrimenti sarebbe sola, senza nessuno.